ricordati opissima vergine maria che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato animato da tale convinzione a te ricorro madre vergine delle vergini e consapevole dei miei peccati mi prostro a chiederti pietà non volere o madre del verbo disprezzare le mie preghiere ma ascolta le benigna ed esaudiscile amen ecco questa bellissima preghiera si intitola memorare memorare è una preghiera che io faccio sempre faccio tutti i giorni volevo farvi una piccola catechesi su questa preghiera anche in occasione della del compleanno domani faccio il compleanno faccio 50 anni e quindi pensavo di proporvi questa preghiera e di chiedervi poi di pregarla anche per me così mi fate un regalo ecco il miglior regalo che si può fare una persona è la preghiera noi dobbiamo chiedere anche a tutti sempre di pregare per noi abbiamo tanto bisogno di di preghiera la preghiera vedete la cosa più importante della nostra vita perché ci porta più vicino a dio ci avvicina a dio quindi quando voi fate una preghiera per me è come se mi avvicinaste un poco a dio come anche io quando prego per voi ecco chiedo di al signore ecco di avvicinarsi a voi quindi la preghiera ci porta vicino a dio è un dialogo con dio diceva sant'agostino pensate che la preghiera è la più grande conquista dell'uomo ed è il più grande dono che dio ha fatto all'uomo quindi la preghiera è il dono più grande perché attraverso la preghiera noi possiamo ottenere tutte le grazie di dio per questo ecco un invito forte alla preghiera l'immagine della madonna che vi ho fatto vedere prima è una statuetta della madonna di di podio sono stato rettore lì al santuario al santuario per per 11 anni e questo ecco mi è servito tanto ad alimentare la fede e l'amore verso la beata vergine maria questa preghiera memorare pensate si trova nel catechismo della chiesa nel catechismo della chiesa cattolica questa versione qui a domande risposte che ha che ha curato papa ratzinger no il catechismo il compendio del catechismo della chiesa cattolica a pagina 172 vedete si trova questa preghiera memorare quindi vedete questa è una preghiera molto bella molto forte e io vi vorrei spiegare anche versetto per versetto questa preghiera e vi vorrei spiegare anche la forza di questa preghiera la potenza di questa preghiera io l'ho fatta diverse volte tante tante volte in cui anche mi sono trovato mi sono trovato in situazioni difficili e questa preghiera del memorare mi ha veramente aiutato quindi vi invito ecco a vi invito vi invito a pregarla una santa che pregava sempre questa preghiera sapete che madre teresa santa teresa di calcutta madre teresa di calcutta lei era molto devota alla madonna e e lei la lecitava questa preghiera quando voleva chiedere una grazia faceva il rossario e poi dopo il rossario faceva questa preghiera chiedendo quella grazia particolare e invitava madre teresa di calcutta a a fare questa preghiera chiedendo una grazia per nove giorni consecutivi cioè come bisogna fare come una piccola novena in cui uno fa un rosario e poi attraverso questa preghiera del memorare chiede la grazia alla madonna per nove giorni consecutivi vi assicuro che questa veramente è una preghiera molto molto forte e madre teresa con questa preghiera che recitava spesso ottenne ottenne diversi miracoli no infatti a questa preghiera del memorare è legato proprio un miracolo riconosciuto all'intercessione di madre teresa quando lei era ancora in vita pensate una una donna animista quindi di una religione non cattolica che era colpita da un tumore ovarico di grandi dimensioni madre teresa pregò per questa donna animista malata di tumore e pregò fece una novena di nove giorni con questa preghiera finale mettendo proprio al momento della grazia la grazia che chiedeva per questa donna e questa donna questa donna guarì quindi vedete la madre teresa era devotissima alla madonna però anche a questa preghiera del memorare ve la ripeto perché è molto bella ricordati opissima vergine maria che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato animato da tale convinzione a te ricorro madre vergine delle vergini e consapevole dei miei peccati mi prostro a chiederti pietà non volere o madre del verbo disprezzare le mie preghiere ma ascolta le benigna ed esaudiscile amen questa preghiera avete una preghiera che è attribuita a san bernardo bernardo da chiaravalle questo monaco cistercense della fine del nato il 1090 morto il 1153 un mariologo una una un dottore una un devoto alla madonna che ha scritto tante opere meravigliose su di lei ricordate quelle quella preghiera quando sei nella difficoltà guarda la stella invoca maria ecco quella l'ha scritto lui quando sei nella tempesta guarda la stella invoca maria quindi devotissimo a lei però questa preghiera del memorare non la scritta san san bernardo da chiaravalle anche se nei suoi scritti ci sono diversi tratti ecco di questa preghiera e l'autore è anonimo però fu diffusa moltissimo da un sacerdote da un sacerdote claude bernardo un sacerdote del sedicesimo secolo questo questo sacerdote pensate si dedicava alla alla ad aiutare soprattutto i carcerati e i condannati a morte e quindi predicava loro la parola di dio e poi alla a questi condannati a morte ai carcerati faceva pregare ogni giorno questa preghiera del memorare e perché la faceva pregare perché era stato anche lui stesso mira miracolosamente guarito no da una malattia attraverso questa attraverso questa preghiera quindi poi questo monaco la diffuse tanto nel sedicesimo secolo poi si diffuse in tutta la chiesa alla fine papa pio undicesimo nel 1846 concesse molte indulgenze a questa preghiera quindi vedete una preghiera che comporta anche delle indulgenze la preghiera vedete è molto importante noi dobbiamo sempre pregare rivolgere alla madonna una preghiera anche un ave maria pensate c'è il santo curato d'ars il santo curato d'ars diceva così una frase che vi invito a ricordare anche a memoria diceva il santo curato d'ars una sola ave maria detta bene fa tremare l'inferno quindi una sola ave maria detta bene fa tremare l'inferno cioè una ave maria detta col cuore con tutto il cuore alla madonna ci ottiene tantissime grazie no allora quanto più un rosario quanto più un rosario anche con una preghiera tipo il memorare chiedendo una grazia allora vedete la preghiera è potente la preghiera è potentissima noi dovremmo riacquistare maggiore fiducia nella preghiera penso che più preghiamo più riacquistiamo fiducia nella vita negli altri perché attraverso la preghiera è dio che ci tende la mano è dio che ci risolleva è dio che che ci fa risorgere ecco possiamo dire che la preghiera fa risorgere anche i morti la preghiera ci ecco la preghiera ci ci converte voi sapete anche la la potenza di intercessione della beata vergine maria i padri della chiesa hanno scritto delle parole meravigliose sulla madonna una delle cose belle che hanno scritto sulla madonna hanno paragonato questo c'è un libro c'è un libro lessico di simbologia mariana in cui ci sono diversi diversi simboli che un po riguardano la beata vergine maria tra i simboli belli che riguardano la madonna c'è questo quello della finestra dice la finestra la finestra del cielo c'è la madonna è come una finestra del cielo questa questa questo paragone della madonna con la finestra pensate la l'acconiato o francesco petrarca e lui diceva che come c'è una finestra del cielo perché da lì poi passa da questa finestra passa gesù che il datore della vita il datore della grazia quindi la è una fine la madonna è come una finestra di grazia sul mondo intero e dobbiamo essere molto devoti vedete alla madonna perché la madonna ci porta a gesù la madonna ci aiuta a realizzare l'unione con gesù nostro signore diceva un teologo un star luigi maria grignone de monforto penso che tutti conoscete anche qualche libro che ha scritto ad esempio il trattato della vera devozione alla vergine maria diceva che alimentare la devozione alla madonna è qualcosa di di forte dal punto di vista della spiritualità dal punto di vista cristiano perché diceva che è la via più facile la via più breve la via più perfetta è la via più sicura per arrivare a dio più siamo devoti alla madonna e più noi sappiamo di raggiungere con certezza il paradiso quindi san luigi maria grignone de monforto e poi diceva che coloro che sono veramente devoti alla madonna sono predestinati addirittura diceva questo predestinati da dio al paradiso ma in effetti vedete la madonna è la nostra madre gesù dall'accrocio ce l'ha donata ha detto ecco la tua madre e quindi la madonna è la nostra madre madre universale la madonna è madre di tutti c'era c'era il santo curato d'ars una delle cose belle che diceva riguardo alla madonna questo santo il santo curato d'ars diceva questa affermazione un po curiosa che un po forse ci fa sorridere però è vera diceva che la madonna in cielo non può godersi neanche in pace il paradiso perché come una mamma che ha i suoi figli fuori casa che siamo tutti noi e ne attende il ritorno quindi le dice così le preoccupazioni della madonna finiranno poi alla fine dei tempi quando l'ultimo suo figlio entrerà nella casa del padre è vero infatti vedete la madonna si preoccupa per noi la madonna ci ama in paradiso ma vuole portarci con sé e non è non ha la pace piena anche lei finché non sa che l'ultimo dei suoi figli non è stato conquistato al signore la madonna lavora continuamente per la redenzione per ricondurci al signore quando uno di noi quando una persona poi si converte quando una persona e comincia a cambiare vita la madonna fa festa in paradiso gioisce c'è c'è feste in cielo per un solo peccatore che si converte sulla terra quindi anche la madonna in cielo fa festa quando una persona di noi comincia a migliorare a cambiare vita quindi pensate vi lancio questo messaggio è dell'importanza della preghiera quando voi iniziate a pregare e la vostra vita inizia a entrare in questa dimensione di preghiera il cuore della madonna si rallegra perché sa che che camminate verso la via della salvezza quindi ecco vi invito molto a vi invito molto a pregare questo fatto ecco della madonna che è in paradiso e che in qualche modo non se lo può godere il paradiso finché non siamo entrati tutti in paradiso lo diceva anche padre pio infatti padre pio cosa diceva diceva io aspetterò alle porte del paradiso finché non sarà entrato l'ultimo dei miei figli spirituali e quindi aspetterò ad entrare finché non sarà entrato l'ultimo dei miei figli spirituali e quindi poi diceva anche anche lui diceva amate la madonna amate fate amare la madonna e dite molti rosari quindi vedi io penso che la devozione mariana è qualcosa di forte di bello questa preghiera del memorare questa preghiera del memorare alimenta molto la nostra devozione mariana quindi ecco vi invito ecco vi invito vi invito a pregarla però adesso vediamo un po versetto per versetto questa preghiera cercando un po di cogliere alcuni aspetti molto belli di questa preghiera allora la preghiera inizia così ricordati opissima vergine maria ricordati cioè subito ci ci colpisce questa parola di come inizia questa preghiera ricordati che significa questo ricordati cosa ci fa pensare questo ricordati penso che a tutti quanti ci fa pensare che cosa disse il buon ladrone no a gesù quando era in croce il buon ladrone disse ricordati di me quando entrerai nel tuo regno ricordati di me e gesù gli disse oggi sarai con me in paradiso allora questa preghiera inizia appunto con questa espressione ricordati opissima vergine maria ricordati ricordati di me ricordati pensami intercedi per me questo 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 verbo ricordare non è che con la madonna non si ricorda come non si ricorda se ricorda di tutti noi che siamo suoi figli però è una è come un'intercessione ricordati di me ricordati anche nella messa lo diciamo ecco ricordati del papa ricordati della chiesa ricordati dei sacerdoti diverse intenzioni mettiamo nella messa con questa espressione ricordati quindi questa espressione ricordati è anche un'espressione liturgica quindi ci noi diciamo alla madonna ricordati di me non mi dimenticare non mi dimenticare mai ho bisogno di te prega per me quindi questa espressione ricorda all'inizio ricordati opissima vergine maria un po ci fa alimentare la fiducia in lei lei vedete la madonna è una persona viva accanto a noi è una persona viva e vera è una persona che cammina con noi quindi quando diciamo ricordati di me quindi come se dicessimo a lei stessa viva accanto a noi ricordati opissima vergine maria e che cosa è quindi un figlio che parla alla madre no e la madre non può non ascoltare quindi questa questa preghiera inizia con queste parole ripeto più volte ogni versetto in modo che ce l'impariamo a memoria ricordati opissima vergine maria poi continua questa preghiera che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato quindi c'è come un'invocazione la madonna dicendo se tu sei la mia madre non puoi non ascoltarmi non esiste una madre che non ascolta un figlio non è possibile che uno ricorre a te o madre che sia la madre la mamma di tutte le mamme la mamma di tutte le persone e che non ascolti e nessuno nel mondo ha mai detto che tu ti sei dimenticata di qualcuno quindi che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato no certo uno dice ricorriamo all'aiuto della madonna soprattutto nei momenti difficili nei momenti della tentazione nei momenti in cui abbiamo bisogno noi ricorriamo all'aiuto della madonna però anche noi chiediamo alla madonna tutto tutto quello di cui abbiamo bisogno come un bimbo che chiede a sua madre tutte le cose di cui ha bisogno avere questa dimensione di figlio lanza verso maria no lei è la nostra madre la nostra mamma celeste e la madre concede ai figli ascolta i figli quindi non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato quindi è come se dicessimo alla madonna quindi se io faccio questa preghiera tu non mi puoi assolutamente abbandonare devi ascoltarla per forza devi ascoltarmi per forza o vergine maria perché io sono tuo figlio quindi vedete come anche questa preghiera è una preghiera audace nella questa preghiera dice ricorrendo al tuo aiuto quindi si invoca anche l'intercessione della madonna come aiuto dei cristiani questa è un'invocazione accusiglium cristianorum che come sapete tutti faceva san giovanni bosco tra poco c'è la festa giorno 31 c'è la festa quindi ricorre ricorre al tuo aiuto la madonna aiuto dei cristiani tu vieni in mio aiuto e si parla anche di protezione ricorrendo al tuo aiuto e la tua protezione c'è una bellissima preghiera del terzo secolo dopo cristo che si chiama subutum presidium cioè sotto la tua protezione cerchiamo rifugio santa madre di dio così dice questa preghiera non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova ma liberaci dal pericolo o vergine gloriosa e benedetta questa è una bellissima preghiera che noi facciamo in genere la sera anche come sacerdoti nella compieta ci mettiamo sempre sotto la protezione della madonna quindi in questo versetto che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato e come se dicessimo o madre tu non mi puoi abbandonare assolutamente è impossibile che mi abbandoni perché tu sei mia madre e anzi non tu non solo non mi abbandoni ma mi dai protezione protezione anche contro il male contro il maligno contro i pericoli e mi dai l'aiuto mi dai tutto l'aiuto con la tua grazia e poi continuo ancora questa preghiera animato da tale convinzione a te ricorro madre vergine delle vergini questa è un'espressione molto bella perché dice animato da tale convinzione da tale convinzione mi fa pensare che la madonna ci rianima cioè nel momento in cui noi pensiamo alla madonna e a lei che ci vuole aiutare e dentro di noi ci sentiamo rianimati voi cominciate provate no se un po certe volte perdete la speranza siete scoraggiati cominciate a dire io prego la madonna e vedete come vi rianimate perché la la convinzione che c'è la madonna accanto a noi e ci aiuta questo qua ci rianima e ci risolleva nella vita quindi animato da tale convinzione a te ricorro o madre vergine delle vergini ora pensavo leggendo questo questo versetto dice a te ricorro ho pensato a dio cioè dio veramente si compiace quando noi ricorriamo alla vergine maria per chiedere le grazie cioè si compiace contento dio anche gesù è contento quando noi facciamo passare le grazie attraverso la vergine maria dio è contento gesù è contento ma perché perché dio è venuto in terra da maria e la madonna che l'ha dato al mondo gesù quindi è sceso in terra attraverso il sì di maria e quindi se lui è sceso in terra attraverso il sì di maria quando noi chiediamo a dio le grazie sempre attraverso il sì di maria e allora dio si compiace si compiace di questo sì della madonna al punto che non può non concedere quello che la madonna chiede quindi questa è una cosa bella vedete animato da tale convinzione a te ricorro madre e poi si dice vergine delle vergini vergine delle vergini e si ricorda si ricorda un dogma mariano la perpetua verginità di maria la madonna che è stata vergine prima durante dopo il parto quindi verginità anche come donazione assoluta di se stessa al padre ricorro a te che ti sei donata totalmente al padre e quindi hai acquistato anche dei meriti davanti a dio e quindi c'è una una convinzione che la madonna può darci un di più può risollevarci veramente quindi la frase animato da tale convinzione a te ricorro o madre vergine delle vergini andiamo avanti l'altro versetto dice e consapevole dei miei peccati mi prosto a chiederti pietà questo è molto importante vedete non è da sottovalutare cioè quando noi chiediamo qualcosa a dio prima di chiedere qualcosa a dio dobbiamo chiedere perdono dei peccati dobbiamo chiedere perdono anche delle persone a cui abbiamo fatto del male e anche perdonare coloro che ci hanno fatto del male cioè sono le disposizioni queste della preghiera la disposizione al perdono è qualcosa che amplifica enormemente la nostra preghiera e la rende forte quindi qua dice consapevole dei miei peccati uno si riconosce peccatore il fatto che uno si riconosce peccatore già entra in una giustizia perché dio vuole bene al peccatore lo vuole convertire consapevole dei miei peccati mi prosto a chiederti pietà ci si riconosce peccatori come si fa nell'ave maria no ricordatevi anche ad esempio la bellissima supplica di bartolo longo no alla madonna del rosario di pompei no in cui dice pietà chiediamo pietà no per i nostri peccati e poi dopo bartolo longo questa preghiera molto bella che anche è legata a questa del memorare dice alla madonna voi siete l'onnipotente per grazia quindi c'è una dimensione di grazia che passa dalla madonna che quasi è vicino all'onnipotenza cioè la madonna onnipotente per grazia quindi può veramente salvarci la madonna anche le momenti anche le persone che si trovano in una situazione terribile di vita di peccati essendo la madonna onnipotente per grazia le può salvare tutte noi dobbiamo quindi affidarci a lei e quindi questa dimensione di figli no che noi siamo figli suoi e non ci può non aiutare no la madonna non ci vuole vedere perduti ma corre il nostro aiuto corre corre a prenderci e corre ad abbracciarci corre per riportarci per riportarci verso dio poi ricordatevi i due brani del vangelo che sono a fondamento dell'intercessione della madonna dell'intercessione potente della madonna uno è le nozze di cana no quando le nozze di cana mancava il vino nel marimonio in cui erano stati invitati gesù e la madonna e la madonna disse a gesù non hanno più vino e poi disse ai servi fate quello che vi dirà questo il brano un po che è a fondamento dell'intercessione della madonna la madonna vuole riportare la gioia a noi che l'abbiamo perduto il vino rappresenta la gioia e poi anche sotto la croce no quando gesù dice ecco tuo figlio alla madonna indicando giovanni ecco tuo figlio prega per tuo figlio questo vedete è molto è molto bello questo quindi consapevoli dei miei peccati mi prosto a chiederti pietà uno chiede perdono e chiede perdono ecco dei peccati mi prosto chiedo perdono sono un peccatore e noi dobbiamo riconoscerci peccatori questo è il primo passo per camminare verso la santità poi ancora l'ultimo versetto di questa preghiera dice non volere o madre del verbo disprezzare le mie preghiere no ancora vedete come come si insiste no questa dimensione di richiesta non disprezzare le mie preghiere o madre ma ascolta le benigna ed esaudisci le amen vedete la madonna non disprezza mai le nostre preghiere noi dobbiamo confidare in lei e parlare con lei dialogare con lei affidare a lei tutta la nostra vita addirittura la madonna ci legge anche nel cuore e quindi sa anche tutti i modi interiori che abbiamo nel nostro cuore nella nostra anima lei vede tutte le nostre preoccupazioni anzi possiamo dire così vedete che le nostre le nostre preoccupazioni diventano le sue preoccupazioni quindi la madonna fa 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 sue le nostre preoccupazioni questa è una cosa molto bella diventano sue lei che si fa carico di noi di tutto quello di cui abbiamo bisogno e questa preghiera dice appunto così non volere disprezzare le mie preghiere ma ascolta le benigna ed esaudisci le quindi vede la vergine maria ascolta tutti ascolta tutti e quando noi chiediamo una preghiera lei mette in moto il paradiso gli angeli per esaudirci in tutti i modi per aiutare certo è ovvio che quando noi chiediamo qualcosa alla madonna dobbiamo chiedere qualcosa di bene non possiamo chiedere qualcosa di negativo ma dobbiamo chiedere qualcosa sempre che che è nella volontà di dio altrimenti non può esaudirci no però ecco lei si mette in moto e si compiace ecco di aiutarci in tutto ciò che gli chiediamo come una madre quando un figlio gli chiede qualche cosa la madre la madre subito si mobilita per aiutare per aiutare il figlio quindi l'ultimo versetto dice non volere o madre del verbo disprezzare le mie preghiere ma ascolta le benigne ed esaudiscile e poi c'è l'amen l'amen finale che conferma tutto quello che abbiamo detto alla madonna questa vedete una preghiera meravigliosa io ne ho fatto uso diverse volte e posso assicurarvi che quando l'ho pregata questa preghiera la madonna mi ha sempre esaudito non l'ho detta tante volte per tante situazioni ecco anche piccole ma l'ho detta in dei momenti molto importanti anche della mia vita chiedendo anche le grazie per qualche persona e quando ho detto questa preghiera posso dire che la madonna mi ha esaudito allora si ha esaudito me in tante cose perché non può esaudire anche voi ecco pregate questa preghiera con il cuore l'ultima cosa che volevo dire questa piccola catechesi e la testimonianza di un convertito attraverso questa preghiera ratisbonno ratisbonno voi sapete che alfonso ratisbonno era un ebreo un ebreo ateo che che non credeva che era contro un po la fede cattolica il fratello era sacerdote ma lui andava anche contro il fratello che era sacerdote anzi lo disprezzava e come si convertì questo ratisbonno una conversione forte ebbe perché lui per caso si trovò a roma e a roma incontrò un barone barone teodoro de bussiere questo 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 barone era un fervente cattolico ed era molto devoto alla medaglia miracolosa che questa qui vedete la medaglia miracolosa la medaglia che la madonna diede a santa caterina la bure nel 1830 c'è scritto intorno o maria concepita senza peccato pregate per noi che ricordiamo a voi quindi sull'immacolata concezione e questo questo barone incontrò questo ratisbonno e gli disse guarda ti voglio sfidare siccome tu dici di essere ateo siccome tu pensi che tutte le preghiere che noi facciamo siano superstizione siccome ti senti tanto illuminato nelle tue convinzioni ti voglio sfidare e gli disse a questo a questo ratisbonno ti do la medaglia miracolosa portala con te quindi gli diede la medaglia e poi siccome aveva scritto su un foglio di carta aveva scritto la la aveva scritto la preghiera del memorare e gli disse devi devi tenere la medaglia e devi dire questa preghiera del memorare almeno per due tre giorni no la mattina e la sera e questo e questo e questo ratisbonno poi cosa fece accettò la sfida e dice vabbè tanto male non mi può fare che dico una preghiera male non mi può fare accettò la medaglia miracolosa la misa al suo collo e cominciò a recitare questa preghiera la mattina e la sera cosa successe poi al terzo giorno che recitò questa preghiera tenendo la medaglia miracolosa con sé passando poi sempre con questo barone da una chiesa santa maria delle fratte a roma si sentì sentì una chiamata come se dovesse entrare in quella chiesa e addirittura in quella chiesa ebbe l'apparizione della della vergine mariano che gli apparve con la stessa immagine della medaglia miracolosa con le mani che piene di raggi che illuminava il mondo cioè ebbe l'apparizione della madonna e poi da quel momento tutta la sua vita cambiò lui poi divenne addirittura da ateo ebreo poi divenne sacerdote poi si trasferì anche a gerusalemme si adoperò per la conversione anche degli ebrei e quindi poi insomma donò tutta la sua vita al signore donò tutta la sua vita alla madonna praticamente quasi come fece san massimiliano maria colbe lui era il devoto dell'immacolata diede tutta la vita alla madonna anche questo la tisbonno diede totalmente la sua vita alla madonna però la sua conversione da dove è partita partì la sua conversione dalla medaglia miracolosa e da questa preghiera del memorare per questo anche approfitto anche di questo per dire a tutti quanti voi di procurarvi una una di queste medaglie c'è una decina il cielo se me la chiedete una decina di queste medaglie cielo ve la posso dare tenere addosso la medaglia e poi pregare ogni giorno questa questa preghiera del memorare anche per la propria conversione personale uno la può pregare per tante grazie però penso che la prima grazia per cui noi dobbiamo chiedere la grazia della nostra conversione personale e quindi anche a voi io domani faccio 50 anni quindi mezzo secolo di vita stiamo invecchiando il tempo non lo ferma nessuno ecco vi chiedo questa questa come un piccolo regalo vi chiedo il regalo di fare per me questa preghiera di pregarla di pregarla per me e quindi ecco questa ho finito adesso questa piccola catechesi su questa preghiera mi è sembrato bello no dirvi queste cose perché sono delle cose che rallegrano l'anima ci sono alcune preghiere belle nella tradizione della chiesa che veramente sono belle sono sono forti allora l'ultima cosa che faccio in questa piccola catechesi rivolgo la telecamera verso la madonna la stata della madonna di dipodi che io c'ho una piccola statuina della madonna di dipodi faccio questa preghiera la faccio anche per tutti voi per la vostra conversione e vi do la santa benedizione ricordati opissima vergine maria che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e alla tua protezione sia stato da te abbandonato animato da tale convinzione a te ricorro o madre vergine delle vergini e consapevole dei miei peccati mi prostro a chiederti pietà non volere o madre del verbo disprezzare le mie preghiere ma ascolta le benigna ed esaudiscile amen e per intercessione della vergine maria vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen ecco che il signore vi benedica sempre vi accompagne e ci possa pian piano convertire come ha fatto con quelle come vi ho detto quel ratisbonno che era ateo ebreo e poi si è convertito totalmente ha dato la sua vita a dio il signore faccia anche questo miracolo nella nostra vita chiediamo al signore il miracolo della nostra conversione buon cammino di santità a tutti